www.solarium.it Il Comune di Favignana ha avviato il procedimento per l'annullamento in autotutela del permesso a costruire, relativo al solarium rioterapico, a servizio della struttura alberghiera exposto di ristoro Levanz o pensione dei Fenici. A seguito della ricostruzione di tutto l'iter procedurale, a partire dalla conferenza dei servizi conclusa a luglio del 2020, sono state riscontrate contraddizioni e anomalie tra le diverse autorizzazioni e la realizzazione materiale dell'opera. La sospensione, già comunicata dal responsabile ad interim del quinto settore della società Macetra e a tutti gli enti interessati, è necessaria al fine di garantire la conservazione degli habitat, potendosi profilare la possibilità di danni ambientali irreversibili e permanenti anche connessi e conseguenti alla fruizione turistica della struttura. Conseguentemente si dovrà provvedere all'immediato blocco dei lavori in corso in attesa dei successivi approfondimenti. Frattanto la sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi. La Macetra Spa, di cui è rappresentante legale Giuseppe Maurici, ha deciso di presentare ricorso dinanzi al TAR. L'impresa ha già conferito incarico all'avvocato Alessandro Perrone del Foro di Trapani annunciando che darà corso ad ogni iniziativa ritenuta utile e necessaria davanti le competenti autorità a presidio del proprio diritto costituzionalmente garantito di fare impresa nei modi e nei limiti previsti dalla legge. La Macetra Spa, tramite una nota a firma dell'avvocato Salvatore Longo, ha fatto sapere che tutelerà in ogni sede i propri diritti e interessi legittimi in quanto ritiene di aver agito sempre in modo corretto e nel rispetto delle prescrizioni imposte. Un'attività commerciale riconducibile a Cosa Nostra è stata sequestrata a Paceco dai carabinieri. Sequestro di beni nei confronti di Carmelo Salerno, considerato uno degli esponenti della famiglia mafiosa di Paceco. Il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale del Capoluogo è stato eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani. Salerno, già condannata a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito del processo scaturito dall'operazione Scrigno, nel 2022 è rimasto coinvolto nell'operazione Speria. I sigili sono stati apposti a un negozio di frutta e verdura che insiste a Paceco, riconducibile a Salerno, mentre è stato ai suoi parenti per cercare di eludere i controlli patrimoniali. Nel corso dell'indagine è emerso come la proprietaria dell'attività, almeno sulla carta, in realtà da anni è residente in un'altra città e completamente disinteressata all'andamento della stessa. Carmelo Salerno, assieme ai suoi familiari, è accusato di trasferimento fraudolento di valori in concorso e di autoriciclaggio. Durante le operazioni di sequestro, che hanno interessato il negozio di frutta e verdura con un valore di affari anno di oltre 300 mila euro, sono state anche contestate da parte dei militari del nucleo spettorato di lavoro di Trapani sanzioni amministrative per un totale di oltre 8 mila euro. All'interno dell'attività è stata infatti accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. Parliamo ora di sanità. Inaugurato all'ospedale di Castelvetrano il reparto di emodinamica. È da tanto che si attendeva all'apertura dell'emodinamica a Castelvetrano. Oggi finalmente stiamo inaugurando la nuova sala operatoria di emodinamica. Però la inauguriamo con un elemento che per me è di fondamentale importanza. Noi lavoriamo già nella sala operatoria di emodinamica dal 5 di maggio. Abbiamo fatto 52 procedure, di cui 32 angioplastiche. Quindi apriamo nella considerazione che già il reparto funziona. Non è una presentazione per poi chiuderlo e aprirlo chissà dopo quanti mesi. Abbiamo il personale, quindi le professionalità, abbiamo la tecnologia, abbiamo i pazienti che stanno venendo in grandi numeri. Stiamo abbattendo le liste d'attesa di tutta la provincia di Trapani perché Castelvetrano fa squadra con Trapani per dare una giusta risposta di sanità alla gente della provincia di Trapani. E lo facciamo con la consapevolezza che non dobbiamo più costringere la gente a partire da andare in altre province per andare ad avere quel bisogno soddisfatto, il bisogno di sanità che finora non abbiamo potuto avere noi. Questo è un altro punto cardine sull'abbattimento delle liste d'attesa che stiamo dando alla popolazione di Trapani. E lo facciamo nella consapevolezza di essere in mano a grandi professionisti. Dottore, finalmente si abbattono le liste di attesa? Finalmente la migrazione verso Sciacca dovrebbe essere sconfitta? No, non è tanto il discorso della migrazione verso Sciacca perché Sciacca rimane in quanto è il nostro abito di riferimento perché scardinare la rete del Lima non è possibile perché ci sono decreti nazionali che risalgono al 2011 e che sono così e così devono rimanere. Il nostro obiettivo invece è ridurre i tempi di attesa ed evitare che i pazienti elettivi o che i pazienti che possono attendere per le procedure interventistiche coronariche evitino di andare presso per esempio altre regioni che sono Lombardia. Faccio un esempio. Quindi mantenere i flussi in uscita e cercare praticamente di evitare disagi alla nostra utenza cercando di allocare in maniera omogenea all'interno della provincia questi laboratori che adesso sono rappresentati, rappresentano praticamente diciamo che sono elettivi cioè diventano importantissimi nel trattamento delle cardiopatie schemiche. Negli anni 90 c'erano i trombolitici, adesso salvano le vite le angioplastiche coronariche. Il laboratorio è allocato a Castelvetrano ma non bisogna dimenticare che il territorio è grosso e ci sono oltre 9 comuni che insistono in questo territorio che va oltre 120 mila abitanti. Poi un laboratorio dislocato qui abbraccia parte anche della zona Mazzara e sud di Alcamo perché la logica, la strategia diciamo di allocazione è nata da questo. L'hab importante noi ce l'abbiamo a Trapani che è nella parte nord e occidentale della provincia e il riferimento elettivo ce l'abbiamo con un terzo laboratorio praticamente a Castelvetrano alla porzione sud orientale della provincia e così abbiamo abbracciato tutta la provincia e dato la possibilità a tutti i nostri abitanti della provincia di ricevere ugualmente e nei tempi uguali un servizio uguale per tutti. Archiviate le amministrative a tenere banco a Trapani e il caso Turano. Maurizio Miceli si era lamentato subito dopo la vittoria di Giacomo Tranchida lunedì sera. La colpa è di Mimmo Turano che lo ha appoggiato. Subito rilanciato dai vertici del partito regionale approdato per l'ennesima volta sul tavolo del presidente della regione Renato Schifani che più volte nelle scorse settimane aveva sottolineato allo stesso deputato alcamese quanto fosse opportuno serrare i ranghi nella maggioranza di centrodestra anche nel capoluogo della sua provincia. Ma l'assessore alla formazione ribadiva quanto detto pubblicamente i miei a Trapani vogliono continuare il percorso civico iniziato cinque anni fa con l'attuale sindaco. Un cambio di cavallo che oggettivamente sarebbe stato difficile da proporre all'elettorato a pochi mesi dal voto quando si era stati per lungo tempo parte integrante della maggioranza del governo cittadino. Ad ogni modo ad urne chiuse nuovamente fuoco alle polveri con la stampa anche teoricamente qualificata a stigmatizzare che la Lega fosse andata forte passando dall'1,7% di cinque anni fa all'8,7% attuale dietro lo scudo di un simbolo civico. Un'analisi politica surreale visto che nel 2018 non vi fosse alcun simbolo leghista per le amministrative neanche camuffato e ci fosse invece lo stesso Trapanitua e sempre nella coalizione civica senza simboli nazionali del primo cittadino uscente che raccolse le medesime preferenze di questa tornata. Casomai il ragionamento sarebbe esattamente inverso come chiarito dallo stesso Turano ai vertici leghisti a Roma prima del grande salto. I miei voti sono e saranno democristiani. Dunque l'analisi politica sarebbe esattamente al contrario. Le oltre 16.000 preferenze e il recordman del voto in provincia dello scorso 25 settembre erano targate Turano ma camuffate dal simbolo di prima l'Italia e sono ampiamente servite a far superare lo sbarramento del 5% in Sicilia e contribuito a fare leggere Schifani. Nel presidente della regione ha rinviato il caso Turano dopo i ballottaggi, caso che potrebbe anche prevedere un rimpasto di giunta. Sembrerebbe infatti che si voglia premiare l'ala catanese che fa riferimento a Luca San Martino che ha fatto volare la Lega a queste amministrative con il simbolo del quadrifoglio, costola verde sull'isola oltre l'11%. Una figura politica certamente brillante e vero ras del consenso sul territorio ma che politicamente ha cambiato varie casacche, dall'Udc ad articolo 4 passando dal PD renziano per approdare due anni fa nel carroccio. Adesso si attende la scelta del governatore. Rimaniamo in tema perché il presidente di Telesud Massimo Marino fa l'analisi del voto a Trapani. Cominciamo subito da chi ha vinto, Giacomo Tranchida. Numeri assai diversi dalla scorsa tornata ma non poteva essere diversamente. Allora fu un plebiscito anche in considerazione dei cinque anni precedenti sotto l'evanescente amministrazione Damiano che i cittadini trapanesi hanno presto rimosso dalla memoria per l'assoluta latitanza politico-amministrativa. Passato a gestire un complesso capoluogo di provincia, i nodi sono venuti presto al pettine, complice un carattere difficile per usare un eufemismo. Ma tutto si può dire a Tranchida tranne che non sappia fare le campagne elettorali. Preso atto che non fosse più un valore aggiunto come nel 2018, ha costruito una trincea con la sua maggioranza, tutta in prima linea per farla reggere e così è stato. Dietro di lui Maurizio Miceli ha perso ma a mio avviso in politica conta molto il risultato relativo data la sfida da affrontare. Doveva stargli col fiato sul collo e ci è riuscito in pieno prendendo quasi nove punti in più delle sue liste. Casomai ci sarebbe da riflettere su queste e se non ci si aspettasse qualcosa in più da loro, trainando la volata contro il primo cittadino uscente che ha prevalso di circa 1.400 preferenze. In soldoni neanche il 6%. Nella coalizione ha fatto bene, ma non benissimo a Motrapani. È vero, è stata la prima fra tutte quelle in corsa, ma tutti si aspettavano di più, compreso all'interno del movimento dell'ormai ex presidente del Consiglio Comunale. Stesso ragionamento per l'MPA. Ha superato lo sbarramento, ma con fatica, sperando in almeno due o tre punti in più. Fratelli d'Italia ha fatto il suo compitino superando lo sbarramento. Ancora una volta disastroso invece il risultato di Forza Italia in città. Ampiamente sotto lo sbarramento, nonostante le capriole politiche, per imbarcare stop della coppia De Santis-Daedone e gli sforzi di un pur volenteroso coordinatore provinciale Tony Scilla. Qualche settimana fa fumo duramente criticati per un articolo che prevedeva un possibile flop vista la composizione della lista, soprattutto dall'onorevole Stefano Pellegrino, che fisiologicamente non può che assumere oneri ed onori dei risultati politici del proprio partito, visto il peso specifico che riveste dall'alto del suo ruolo di capogruppo all'Ars e per lo stretto legame che intrattiene con Renato Schifani. Ed infatti siamo stati facili profeti. Ci starebbe da chiedere al parlamentare marsalese il perché dell'assenza dell'amico e compagno di partito presidente della regione durante la campagna elettorale. Inutile girarci intorno, essere finti moralisti, un governatore in carica nell'assoluta legittimità politica e nelle condizioni di spostare mille voti in un batter d'occhio, se solo volesse. E visto che Schifani più volte ha parlato di Trapani in questi mesi, sostenendo la necessità di serrare ranghi nel centrodestra, stigmatizzando la posizione dei fedelissimi di Mimmo Turano schierati con Tranchida, ci chiediamo come mai Pellegrino non abbia ritenuto di suggerire al suo presidente di spendersi per il loro partito e Miceli pancia a terra sul territorio. Il valore aggiunto sarebbe stato importante, forse determinante alla luce dell'ottimo risultato uscito dalle urne. Invece niente, ancora una volta il deputato marsalese ha dimostrato tutta la sua insipienza politica, lasciando sostanzialmente forse tali in balia di se stessa e ciò che potesse mettere su scilla ai compagni di ventura raccattati per strada alla bisogna. Ad ogni modo, quando il buon Pellegrino ci derise per la facile profezia, rassicurò i cittadini sulle solide basi su cui poggiasse Forza Italia anche a Trapani. Risultato della rassicurazione? Un misero 3,5% e fuori dal consiglio comunale per la prima volta nella storia forzista in quella che fu la città più azzurra d'Italia. Per capirci, a Catania conquista quasi il 13%, mentre a Siracusa registra il 7%. Solo Ragusa fa peggio con l'1%, ma qui non c'è alcuna deputazione regionale. Un capolavoro, non c'è che dire. Domani, la seconda parte della nostra analisi politica sul voto trapanese, dando uno sguardo alla corsa solitaria di Anna Garuccio e sulla coalizione a sostegno di Francesco Brillante, con il disastroso risultato ottenuto dalla lista di Cateno De Luca e le difficoltà dei 5 Stelle a ricostruire il movimento in città. Ora lo sport, buon prosieguo.